Nuovi parcheggi gratuiti e disponibili tutto l'anno in arrivo nell'area di colmata a Chiavari. Saranno tra i 50 e i 60 nella parte finale di piazza San Giovanni Paolo II. La zona, commenta l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bisso, fino ad oggi era transennata e al suo interno erano stati accantonati dei basoli di pietra e il materiale raccolto nel corso delle varie mareggiate. Ora vengono alla luce i nuovi stalli, liberi, senza vincoli di orario e permanenza e disponibili sempre, almeno fino a quando non inizieranno gli attesi lavori per la costruzione del depuratore. Bisso intanto spiega gli interventi di questi giorni divisi in due tranche. La prima è l'allargamento verso mare dell'area parcheggio sino ad arrivare in allineamento con i pali di illuminazione e la seconda lo spostamento del cancello di accesso all'area scalo, chiamiamola così, che verrà spostata di una 30-40 metri più verso mare e permetterà di utilizzare tutta quell'area. I lavori dovrebbero essere terminati nella giornata di oggi barra domani, si procederà immediatamente al tracciamento della segnaletica ed è per questo che non posso dare il numero preciso dei posti auto perché dipenderanno appunto dal tracciamento della segnaletica e a seguire verranno immediatamente aperti come parcheggi di colmato uguali agli altri già esistenti.